Salve gente, bentornati nella serie in cui esploro le backrooms in VR. Oggi voglio provare the backrooms. Voglio vedere un po' che cos'è. A quanto pare è diversa rispetto a quella dell'ultimo video, perché qui troveremo delle entità. Inoltre non c'è solo una backrooms, ce ne sono parecchie, quindi sarà abbastanza interessante esplorarle un po' tutte. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace se vi piace il video. Questo mi aiuta a capire se la serie effettivamente mi piace. E niente, partiamo! La mappa inizia in un ospedale abbastanza affollato. E noi siamo una specie di dottore, credo. Però, salve. Avete notato le finestre? Buongiorno. Voglio vedere un personaggio di Half-Life. Che sta dando una mano a un personaggio di ICS, ok. E ci sono le coseline 4Nead, va bene. Eh signore, oggi per lei abbiamo succo d'arancia. Inendovena. Ma do che paura... Signor Isaac, siamo uguali. Sono blu io però. Tutto sembrava abbastanza tranquillo. Però, ad un certo punto... Ma almeno c'è un po' di gente. Che succede? Che succede? EBS? EBS? No! Che co... Co... No, 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 no. Ma che... Che succede? Questa era chiusa un attimo fa. Ok. Eh, no, chiuditi però. Ok. Sono sicuro qua. In teoria. Wow. Mi hanno fatto a farci passare sta roba qua dentro. Ok. Chi? Chi? Non vedo niente. Non vedo niente. Non è colpa mia. Io non c'entro niente. Me ne vado. Hola. Aiuto. No. No. Ok. Manca il suono delle luci, comunque. Eccolo, appunto. In qualche modo, se non ho clipato fuori dalla realtà. E mi sono ritrovato nel primo livello delle backrooms. Ho provato a cercare qualcosa che mi avrebbe fatto uscire da quel posto, ma era tutto uguale. Cosa? Che? Che? Sento cose dietro di me. Gran bel muro, eh. Madò. Stavo vagando in questo posto da un sacco di tempo ormai. e a un certo punto è successo qualcosa di veramente strano. Oh no. Oh no. Che vuol dire? Perché non sento più le luci? Non sento più le luci. Non sento più le luci. Per qualche motivo il fatto che fossero spariti i suoni delle luci avevano reso questa backroom molto più inquietante. ma... 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 è la chiave? Devo trovare una porta. Devo trovare una porta. piena di porco. Oh... oh... ma... 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 non c'era un ascensore prima? Cosa? Sono uscito? Oh no. Oh no. Questo è il secondo livello delle backrooms. In teoria. A quanto pare stavo percorrendo le backrooms in ordine. Ora non mi rimaneva altro da fare che trovare l'uscita prima che qualcos'altro mi fermasse. non so se ci sono entità qui. In teoria... forse. Cosa è strana? In questo posto sento una musica. Ok. Ci sono. Siamo... non lo so. Non sembra un centro commerciale. Anche se il parcheggio sotto sembrava. Aspetta non dirmi che è uno di quei... Ah no. Aspetta. Questo è uno delle... dei gruppi che abitano dentro le backrooms in teoria. Ah. Una console. Eeeh. Oh. Ok. Ah. Non volevo attivare l'allarme. Sorry. Non mi do. Oh. Eh. Oh. No, 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 no. No, no, no. Ah. Ma non c'era una porta qui. Oddio. 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 Dove sono? Ah. Non sento più suoni. È terribile. Ok. Grazie mille, gioco. Mi mancavano. Dove siamo? Sta roba è claustrofobica. Che paura Questo è il livello 3 delle backrooms, uno dei più difficili delle prime nove. Qui le entità sono per la maggior parte ostili. L'unico modo per uscire è quello di trovare e accendere il generatore che si trova nel livello. Stanno arrivando. Abbiamo questo coso. Questo è l'ultimo. In teoria. Questo è dove? Questo Porta Sì Ok Ok Cosa è questa? Qualcosa Leva Ok Salvo E dove sono adesso? Non è scesa Ehi Sono felicissimo Di aver trovato Persone Anche se Guardano tutti In la stessa direzione Sembrano più degli uomini Ma vabbè C'è qualcuno che Può darmi una mano E riattivare gli ascensori? No Purtroppo Il gruppo di persone Non mi ha aiutato E quindi Sono tornato da solo E ho continuato Ad esplorare Questo livello Che succede? Dove sono? What the fuck? Che ci faccio qui? Cos'è sto posto? No dai Era così bello Quello di prima È una specie di Regione? Zona Come ci sono le sale Quell'interrogata Non lo so Oddio Ok Ok Cosa? Cosa? Questo è il quinto livello Delle backrooms Un hotel abbandonato In cui tutte le stanze Sono chiuse a chiave Oh Madò Dove è finita la musica? Sesto bar Perché ha spento La musica Cos'è sto suono? Perché sta aumentando? Come se ci fosse qualcosa qui Tipo Ho continuato a cercare La stanza Da dove proveniva Quel rumore Sperando che fosse La mia via d'uscita Deve essere per forza Qua dentro Wow Cosa? Signore Sono contento Di averla qui Da quanto? Aspetta Che si liberi un bagno Ok Questo è strano Però non mi piacciono I corridoi Cosa? Oh Porta Oh 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 No Quindi è questo il casino Sono i generatori Oh no Non sento niente Ok Chiusa Dobbiamo girare la valvola Oh 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 Apreti No Che cavolo Sono di spavento No Quante ne devo tirare ancora? Qua Due Ok Forse devo tirarle In ordine Devo girarle in ordine Forse Uno Speriamo Ok Due Tre Ah Ora ho capito Che caspita Oh Si è aperta una porta Andiamo Eccola Via 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 Dove sono? No 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 Sono Sti suoni Oh Oh Mì Dio Oh Mì Dio Oh Bad ending Sono perso nel livello 6 Le voci si stanno avvicinando Il cibo è già stato mangiato Ora sei da solo E nessuno ti salverà Bella fine Yeah È vivo Huh Alla